Questa è la sua laghetta. Non si può toccare. Non si può toccare, non si può toccare. Ma chi? E dopo ti la metti non mi rimane. Ciao. Togliere. Ui, ci sono togliere, che è un po' la prima parte. Ma chi ci vuole? Noi. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.